Vai Mark, è il salto! C'è il salto? C'è il salto? Wuh! Wuh! Ehi! Ehi ragazzoni! Vai, vai, vai! Grande! La Freeride Second Part! Gruppo elettrici si nasce ragazzi qua! E ti sono una forza! Ecco qua, inauguriamo la TOC di Sama! Eeeeeee! Auguri Sama! Sama! Vai, vai, vai! Pappa! Questo è bellissimo! Wuh! Bravo Stelle! Allora! Bella, bella! Questa è venuta bella, bravi! E' bellissima giornata... cesanate barbara lo sgabellino quello da pervertito proprio perversione fantastico fantastico allora non riuscite voi fabrice oggi di nuovo cesane ragazzi elettrici quasi al completo direi da qualche merda e da pugnette second part of free ride i punti da stare attenti però è meglio di quell'altro non è bagnata sicuramente voglia sicuramente bagnata e poi chi vuole come si lo chiamo la freeride second part gruppo elettrici si nasce ragazzi qua e ti sono una forza vita a gradore sempre bellissimo è dura bella molto bella si ho sentito tutto destra sempre questo tutto destra 137 missioni grazie a tutti grazie a tutti